Come potete vedere dietro di me, la prima DW61 di IWT da 900 kW installata in Italia. Il IWT è un produttore olandese di turbine eoliche, leader nel mercato mondiale per la generazione distribuita. Vista la situazione del mercato italiano in continua evoluzione e vista la strategia energetica nazionale, ci aspettiamo di vedere da qui al 2030 il raddoppiamento della potenza eolica installata. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori Siamo pronti per cogliere questa nuova sfida, questa nuova opportunità Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori